Con l'ultimo aggiornamento di Gwent, il gioco di carte free to play di CD Projekt Red, è stata introdotta la modalità Arena. Questo nuovo modo di giocare vi permette di scontrarvi contro altri giocatori, creando un mazzo da una selezione casuale di carte. L'obiettivo è quello di raggiungere ben 9 vittorie, mentre per farlo abbiamo a disposizione soltanto 3 vite da utilizzare. Fate molta attenzione e vedrete che seguendo i nostri suggerimenti sarà molto più facile portare a casa la pelle e il bottino. La prima fase cruciale è ovviamente quella di costruzione del mazzo, partendo da delle carte offerte casualmente dal gioco. Per quanto possa sembrare allettante scegliere sempre le unità dai valori più alti, ignorando i vari utilissimi effetti, una selezione del genere potrebbe rivelarsi una mossa controproducente in grado di condurci facilmente alla sconfitta. Tutto ciò su cui dobbiamo puntare, invece, sono carte con caratteristiche in grado di garantirci il controllo del campo di gioco, specialmente se in grado di infliggere danni al nemico e potenziarci. Se invece siete giocatori esperti, potreste tentare di costruire sinergie simili a quelle utilizzate nei vari mazzi costruiti. In generale, però, è sempre meglio selezionare le carte in base a quelle che già si possiedono e ai loro effetti. Naturalmente, ci sono anche casi particolari di unità che vanno prese a prescindere per via del loro estremo valore, come Emporio o Imritsabba. In generale, le carte oro sono le unità più potenti del gioco. Tuttavia, partendo da una selezione limitata, saremo spesso obbligati a sceglierne alcune piuttosto che altre. Dopo vari scontri, vi accorgerete che ci sono delle unità prese molto spesso dai giocatori. Se poi avrete la fortuna di evocare dei servitori con ottimi effetti, vi sarà più facile prendere il controllo della partita. Ciò vale soprattutto nel round decisivo, specialmente nel caso in cui siate sotto di punti. Per non parlare poi di carte meteo come Ragnarok e Vandergrift. Tutte queste opzioni sono le migliori proprio perché possono permettersi di essere potenti indipendentemente dalle carte di contorno. Tale strategia è essenziale per l'arena e deve essere sempre tenuta a mente quando si selezionano le unità dorate. Dopo aver composto il proprio arsenale, si dovrà scegliere un comandante tra i tre selezionati casualmente. La scelta è sempre piuttosto ardua e anche in questo caso si potrebbe essere tentati di preferire il danno piuttosto che l'utility. Ciò a cui bisogna puntare invece sono i leader capaci di creare più opportunità possibili, rendendosi malleabili nelle loro opzioni. Prendiamo ad esempio l'usurpatore, un ottimo comandante spia di Nilfgaard che permette di creare e utilizzare un leader aggiuntivo. Non solo si tratta di un buon value a livello numerico, ma ci permette anche di scegliere nuovamente tra una selezione di carte, il che non può che aumentare la nostra adattabilità nel corso della partita. È proprio questa la caratteristica essenziale che vogliamo sottolineare. Dovete fare in modo di avere sempre più opzioni per contrastare l'avversario. Mentre nel gioco base il meteo può essere tranquillamente contrastato dalle unità, nell'arena non è così facile. Infatti, nonostante il consiglio sia sempre quello di avere almeno un'unità in grado di togliere gli effetti sulle file, non sempre avrete la fortuna di trovare carte simili. Le unità ideali in questo caso sono quelle che possono applicare un effetto meteo entrando in campo, dandovi così del value numerico e un debuff da utilizzare. Certo, se proprio siete stati sfortunati, potrete ripiegare sulle classiche carte meteo, che hanno il vantaggio di applicare l'effetto sulle file senza particolari condizioni, ma è sempre meglio puntare a qualcosa di aggiuntivo, nel caso in cui venisse annullato il maltempo. In generale, nelle partite, il trucco è quello di essere sempre in vantaggio sulle carte giocate e quelle giocabili rispetto all'avversario. Nel Gwent è necessario puntare tutto sull'avere la cifra più grande del nemico, e per farlo in arena bisogna sapersi arrangiare. Pertanto, una buona gestione dei turni è fondamentale per sopravvivere, ma anche poter contare su carte che resuscitano da sole o resilienti vi assicura un vantaggio sul nemico. I segreti dell'arena sono ancora molti, e soltanto impratichendovi potrete scoprirli tutti. Per fortuna, le ricompense fornite sono piuttosto generose, e non vi sarà difficile ottenere altri tentativi semplicemente giocando al titolo. Non azzardatevi troppo, però, o Gaunter potrebbe spennarvi anche dei vestiti. Grazie a tutti!